Anche perché 40 anni di esperienza mi sono goduto e ci siamo goduti, i miei genitori non stavano più bene. Bentornati a una nuova puntata di Capitani del Futuro, Leadership, Valori e Resilienza. Continua la serie speciale da Roma. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Palmiro Noschese, che è presidente di Confassociazioni Hospitality e sei anche advisor nel settore dell'Hospitality di lusso. Buongiorno ai nostri telespettatori e naturalmente innanzitutto grazie per questa grande opportunità che mi stai dando oggi. Beh, il grazie va a te perché adesso ci racconterai parte della tua storia, che è una storia bellissima, la conosco conoscendovi da un po', ed è una storia motivante. Partiamo dal passato, Palmiro. C'è un episodio della tua vita che ti ha fatto chiaramente capire questa leadership che hai o qualche momento riconducibile a questa consapevolezza? Beh, sono tanti i momenti, anche perché 40 anni di esperienza... Ma io vado sempre nel passato, come tu dici, perché poi il passato mette i pilastri per il futuro. Ma un aneddoto molto che mi piace ricordare, che traspare sia in resilienza ma anche in opportunità, è quando ho deciso di cambiare lavoro un po' di anni fa, e siccome l'avevo cambiato già un anno primo dovevo convincere moglie, anche figli, in parte, a trasferirmi. E sinceramente mi mancavano un po' le parole per raccontare questa cosa alla mia famiglia. Ragion per cui ho deciso, quando ero già in grande negoziazione, quasi alla firma, un giorno di prendere la macchina e andare sul lago di Como, e far ammirare il lago di Como a mia moglie, che non c'eravamo mai stati insieme, e dicendo, guarda, il lago è quasi come la corsiera amalfitana, no? Perché era una bellissima giornata. La te la sei giocata bene, però. E la me la sono giocata bene. Difatti lei dice, sì, è bellissimo, ma poi veramente sarebbe addirittura bello vivere qua un giorno. Dico, sì, però non è che è così facile venire sul lago di Como. E poi quando siamo rientrati a casa la sera, ho tirato fuori la mia valigetta e gli ho detto, guarda che io qui ho un contratto praticamente, che fra due mesi, il primo dicembre, devo iniziare praticamente a lavorare con un gruppo importante sul lago di Como. E lei come ha soldi? Mi ha detto, ancora una volta mi hai fregato praticamente, perché me l'hai quasi, diciamo, me l'hai quasi fatto chiedere che venivo sul lago. No, ma questo lo dico, questo aneddoto, perché tutto sommato bisogna sempre trovare le parole giuste, trovare il contesto giusto, crederci, mettere passione. Mia figlia aveva pochi mesi a quei tempi, quindi mettersi in una condizione di un ritrasferimento, in un ritrasloco, quando tu coinvolgi la famiglia, devi trovare le parole giuste, il momento giusto. Io credo di averlo fatto e poi credo che da quel momento, era l'anno 1997, quando sono capitato in questo gruppo e sul lago di Como, col gruppo Villa d'Este, posso dire il nome, ho lavorato cinque anni col gruppo e ho trovato un amministratore delegato che veramente per me è stato un mentor, Jean-Marc Druller, che ancora oggi ringrazio, vedo e lo chiamo ogni tanto per avere qualche consiglio. Diciamo che è stato veramente tutto molto bello, sia da un punto di vista professionale, familiare, figli, moglie, l'arrivo della seconda figlia, un momento veramente bellissimo che mi sono goduto e ci siamo goduti ed è stato un po' la start-up della mia carriera manageriale. Bellissima storia. Parlando di leadership e di valori, quali pensi che siano i valori che un buon leader debba avere per poter impattare in maniera positiva? Beh, io dico sempre educare con l'esempio. Io credo che un grande leader, un buon leader, un eccellente leader, un leader con la L grande è quello che deve sempre cercare di dare il buon esempio. Innanzitutto in termini etici, in termini professionali, in termini di saper fare. Quindi nel momento in cui tu vuoi mostrare la tua leadership, la tua leadership va mostrata attraverso anche mostrare, insegnare e tracciare la strada per queste cose. Quindi oggi, diciamo, rispetto ai giovani, alle nuove generazioni, molte volte noi banalizziamo tutto che si trasforma in digitalizzazione. Invece i rapporti umani, io dico molto importante lo human to human, no? Cioè questo rapporto, diciamo, umano è una cosa importantissima. L'empatia è l'educazione. L'educazione, il rispetto dei ruoli e naturalmente far parlare tutti. Perché noi oggi abbiamo un po' questo grande difetto, specialmente noi italiani, che parliamo tanto e ascoltiamo poco, no? Abbiamo una grande bocca e delle orecchie abbastanza piccole, dovremmo avere delle orecchie più lache e una bocca più piccola. Però, secondo me, la sintesi poi, alla fine, che un leader deve ascoltare tutti, con grande attenzione, ma poi deve saper decidere. Perché quando si arriva poi a un punto si deve decidere, la decisione non può essere una decisione fatta di community. La decisione poi deve essere presa perché noi sappiamo, e questo, diciamo, è la grande storia degli uomini e delle donne, che poi ognuno di noi ha una propria testa, un proprio pensiero, non è che la pensiamo tutti allo stesso modo. Ecco, il grande leader deve anche saper prendere le decisioni giuste, delle volte anche decidere da solo. Dopo che ha ascoltato tutti, deve anche prendere la decisione, naturalmente assumendosi tutte le responsabilità. Ecco, questo per me è un grande leader. Sono pienamente d'accordo con te e riprendo un attimo lo human to human, che è fondamentale. Nel mondo del digitale, in cui stiamo andando verso una spersonalizzazione, l'unica cosa che non potrà mai essere replicata o rimpiazzata dal digitale è il rapporto umano e soprattutto il trust, la fiducia. La fiducia. Io penso che la società futura avrà sempre più bisogno di questo trust, di questa fiducia, e quindi creare un network di persone che si stimano, si fidano, sarà fondamentale rispetto a quello che è poi tutto, tutti i cambiamenti che avverranno nel digitale, tutto quello che verrà rimpiazzato dal digitale. Palmino, gli ultimi anni ci hanno visto attraversare acque movimentate, mettiamola così, e in particolar modo è venuto fuori un termine, resilienza che adesso è conosciuta a tutti e prima era sconosciuta ai più. C'è stato un momento della tua vita in cui hai dovuto fare appello alla resilienza per superare un momento complesso. Beh, pensando al mio passato tante volte, perché io vengo da una famiglia abbastanza modesta e molte volte, la maggior parte delle volte, io mi sono dovuto creare l'opportunità. E il mondo è pieno di opportunità. Bisogna saperle cogliere, bisogna saperle leggere. Oggi venendo qui in metro sentivo delle persone che dicevano ma sognare è una cosa grave, non si deve sognare, perché molte volte sognare ti porta anche a fare delle cose negative. Proprio ho ascoltato questa conversazione involontariamente. Invece io credo che sognare sia la cosa più importante. Ma non voglio non rispondere alla tua domanda, ma ci voglio arrivare perché quando era in arrivo il Covid e non lo sapevamo ancora, io ho avuto, come dire, un disastro familiare, nel senso che i miei genitori non stavano più bene. Perché fino a 80 anni sono stati molto bene e per me erano fari in assoluto. Questa malattia, prima di mio padre, poi di mio padre, nel giro di un anno, un anno e mezzo, è venuto il finimondo e quasi contemporaneamente al Covid li ho persi tutte e due. E quindi ti lascio immaginare una persona come si può sentire. perché io diciamo che quando... Scusate, è un'emozione forte. Ma da vercene, nel senso che se togliamo le emozioni abbiamo finito. No, un'emozione forte perché, come dire, il momento è stato un momento molto difficile che poi, alla fine, come dire, è un momento che anche lì ho colto delle opportunità. Delle opportunità di dire, ma adesso che cosa si fa? La vita continua. E quando la vita continua, tu ti devi dare da fare. Ti puoi un po' dire, mi vado a fare qualcosa di diverso. Poi quel periodo è stato anche un periodo molto difficile. Perché anche nell'azienda in cui lavoravo c'erano tanti cambiamenti, perché con l'arrivo del Covid c'erano posizionamenti cambiamenti. Quindi c'era un po' uno stravolgimento di tutto quello che avevo creato in 40 anni. Sembrava che tutto si stava un po' sgretolando. E allora dico, e adesso che cosa faccio? E io, diciamo, anche Coro una volta ho detto, ma questa è una grande opportunità della mia vita. Io, in fondo, sono stato sempre un manager anche imprenditore. Difatti i miei datori di lavori mi attribuivano sempre questa consapevolezza di dire, tu sei più imprenditore che manager. E allora dico, ma forse è arrivato il momento che posso fare anche l'imprenditore, no? E siccome fare l'imprenditore in quel momento, dove nessuno assumeva, anzi venivano tagliati tutti i costi nell'azienda, era un po' l'unica cosa che potevi fare. E io durante il Covid, dopo la perdita dei miei genitori, in un pochissimo lasso di tempo, mi ritrovavo la mia famiglia, mia moglie e i miei tre figli, ai quali ringrazio, perché comunque mi sono stati molto vicino, però nello stesso tempo io mi sono dato da fare e ho creato, diciamo, un po' la mia azienda. Quella che tu hai detto prima, no? L'advisory nell'hospitality del luxury. Perché era un qualcosa che io avevo fatto con tanti gruppi alberghieri, lavorando, guadagnando bene, avendo successi professionali, a un certo punto ho detto, lo faccio direttamente. E quindi ho cominciato, ho colto questa grande opportunità, una grande opportunità che oggi mi fa dire, ma perché non l'ho fatto prima? Però io dico, poi, ogni cosa a suo tempo è giusto farlo. Nulla avviene per caso, insomma, nulla avviene per caso ai suoi tempi. Una cosa che però voglio dire, oggi i giovani di oggi, che io molte volte mi trovo a parlare, a colloquiare con loro. Però non anticipare consigli per i giovani di oggi, perché ci arriviamo dopo. No, 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 non è un consiglio, ma io vedo i giovani oggi molto intraprendenti. Cioè nel senso che oggi molti giovani vogliono fare gli imprenditori. Invece io, quando ho deciso di fare l'imprenditore, l'ho deciso nel 2020, quando avevo 57-58 anni, dove avevo fatto già una carriera di 40 anni in 5 aziende, portando dei risultati eccezionali. Quindi oggi i giovani, secondo me, sono un po' più avanti come mentalità. Tu sai che io sono l'opposto del politicamente corretto. Quindi, visto che questo format nasce con l'idea di dare un messaggio ai giovani, ti dico il mio punto di vista su questo, che è un po' diverso dal tuo. Nel senso che l'altro giorno ho assistito a un evento in un incubatore dove si parlava di innovazione, bla bla, e citavano le statistiche del percentuale di fallimenti delle start-up, che sono arrivate al 98%. E si domandavano, era qua a Roma, e si domandavano come mai il tasso così alto. Io ho alzato la mano e ho fatto una mia osservazione. Ho detto, se noi diamo l'impressione ai giovani che domani mattina si possono alzare e diventano CEO di una compagnia che ha solo loro come dipendenti, gli stiamo da una visione sfalzata di quella che è realtà. Perché tu, se io lo diventi, io ho una compagnia piccola, una volta che hai l'esperienza per farlo, quindi concordo con te nel fatto che facciamo sognare i giovani, non li limitiamo, ma usiamo un approccio un pochettino anche pratico nel fargli capire che prima di arrivare a fare il CEO o l'imprenditore, magari fatti un po' di esperienza, come abbiamo fatto tutti. La famosa gavetta. Io sono diventato imprenditore dopo un po' di anni che lavoravo per altri, ho imparato, ho fatto contatti, e poi ho fatto l'imprenditore. Quindi forse aspettate un po' a diventare imprenditori, fatevi un po' di gavetta e poi passate. Parliamo di positività. Sei una persona positiva, e c'è il famoso dibattito le persone positive colgono più opportunità o le persone sono positive perché hanno più opportunità. Non lo sapremo mai, ma di sicuro la positività aiuta. Come ha impattato la positività nel tuo percorso di leadership? Beh, la positività è stata una caratteristica da quando ero ragazzo, da quando ero piccolo. Mi chiamavano sempre il capobanda, il capobanda nel senso di positività del termine, che mi inventavo sempre qualcosa da fare, e anche quando qualcuno si annoiava, cercavo di inventarmi qualche cosa. Quindi la positività oggi è una legge di vita, anche perché vedere aspetti negativi fa parte di un business plan. Le worst things che ci sono, ovviamente non bisogna essere un sognatore senza basi, bisogna essere un sognatore con delle basi, rimanendo sempre con i piedi per terra. E quindi la positività è quella che ti fa cambiare le cose. Ma non solo nell'aspetto manageriale, anche nell'aspetto di non perdere un treno. Io dico delle cose banali delle volte, però delle volte io che viaggio molto mi sono trovato, se mai che ero un po' in ritardo per prendere quel treno, e forse se fosse arrivato cinque minuti prima l'avrei preso, e allora lì nella mia positività dico ma ci sta che probabilmente farà cinque minuti di ritardo, chi lo sa? E delle volte che delle volte veramente capita, no? Provarci fino in fondo. Esatto, però non diamo un messaggio che noi abbiamo il podere di far fare un treno in ritardo, assolutamente no, però in quel momento tu anche se dici no ma ormai l'ho perso e mi fermo, lo perderesti lo stesso. Io molte volte riesco a prendere il treno, e questo è un po' un messaggio che do perché ci credo fino in fondo, cioè nel senso che tu devi arrivare fino all'ultimo mattoncino, ci devi arrivare, poi qualche volta non ce la fai, però credo che se ci tieni e se ci metti sempre tenacia, curiosità, passione, ci credi fino in fondo, poi la positività si traduce in effetti molto molto importanti, almeno io nella mia vita l'ho sempre fatto, fino al punto di quando ho scritto un libro, qualcuno mi diceva vabbè ma è impossibile che tu scrivi un libro, poi quando uno ti dice che per me è impossibile fare una cosa lì mi viene voglia di raccontare uno stimolo in più per farti vedere che lo posso fare. Quindi essere positivi sicuramente si guadagna di più in salute, in felicità e molte volte anche in termini economici. Essere negativi a prescindere credo che non è una caratteristica che mi appartenga e chiedo a tutti di non essere pessimisti ma essere sempre molto positivi. Non posso che essere d'accordo. Parliamo di valori. La nostra generazione, perché abbiamo più o meno la stessa età, è cresciuta con dei valori molti materiali, il rispetto per gli anziani, il lavorare sodo, a scuola avevamo torta a prescindere anche quando avevamo ragione perché l'insegnante non si tocca, il non vuoi mangiare questo oggi te lo ritrovi il giorno dopo e così via. Adesso ci stiamo spostando verso valori molto più immateriali, a volte anche valori che ci portano a uno squilibrio mentale perché se si guarda alla materialità e magari anche alla ricchezza, non c'è nulla di mare ad esserlo, ma se l'obiettivo è voglio far soldi, voglio far soldi, voglio far soldi e ti misuri ormai sui social con quelli che si fanno le foto con le macchine, sarai perennemente squilibrato. Quindi in questa prospettiva c'è una storia che vuoi condividere dove hai dovuto prendere una decisione anche in popolare ma che ti ha fatto andare a dormire tranquillo perché era in linea con i tuoi valori. Ce ne sono anche in questo caso alcune ma uno me la ricordo perché quando tanti anni fa nel 2002, fra il 2002 e 2003 arrivai a Roma dirigente di una compagnia internazionale in una situazione non molto facile da gestire perché mi avevano dato un po' questo incarico tra virgolette perché c'erano da sistemare determinate cose ma come sempre non mi avevano detto tutto fino in fondo. Un po' la mission era quello di come sempre accade il payroll è sempre l'elemento di un profit loss quello dove si deve andare a interagire per cercare di far quali riconti. e l'input era sostanzialmente di come dire di far fuori un po' di gente come si dice in gergo ecco anche in quel caso non voglio dire che sono stato buono perché mi ritengo buono ma mi ritengo come dire etico e professionale si deve fare quello che si deve fare a un certo punto ecco però lì tra virgolette attraverso un lavoro molto duro attraverso un lavoro molto duro cioè prima di andare tra virgolette a tagliare sono entrato praticamente per due mesi in tutti quelli che erano i processi aziendali lavorando veramente 24 ore al giorno molte volte si dice lavorare veramente 24 ore con un team fantastico di 3-4 persone dove abbiamo in 60 giorni probabilmente fatto quello che non si era fatto in 8-9 mesi prima e la cosa più bella di tutta questa analisi che è stata fatta anche con delle cose che si sono andate poi sistemando lungo la strada sempre vedendolo in maniera positiva semmai trasferendo qualche persona anziché mandarla via semmai cambiando un ruolo semmai modificando delle cose beh con il in collaborazione col team in modo particolare con le HR department noi non abbiamo fatto nessun licenziamento quasi nessun licenziamento da parte qualche persona che ha deciso praticamente di lasciare ecco quindi anche in questo approccio visto che c'era come dire un input preciso vai lì e taglia io ho affrontato la strada quella più in salita anche perché io sono convinto che nel momento in cui tu provi a salire la scala gradino per gradino poi ti metti su un grande come dire un grande palco diventi regista diventi leader e di fatti io lì ho vissuto di rendita per almeno due anni per questo tipo di azione perché ovviamente è stata molto apprezzata sia dal cliente interno dal cliente esterno dalla sede da tutti quindi ho vissuto un po' di rendita ma con questo non voglio dire che io poi mi sono seduto di fatti poi da direttore di un albergo sono diventato amministratore delegato di una multinazionale portandolo da poco meno di 10 milioni di euro di fatturato a 80 milioni di euro di fatturato e circa 20 milioni di EBITDA quindi voglio dire tutto questo grande percorso è partito da questi due mesi dove io tutte le sere mi chiedevo ma resto o vado via ma resto o vado via per me era sempre questo l'incognita e la cosa bella che raccomando a tutti non portate mai cose negative a casa non è che quando uno vive di queste cose le deve per forza trasportare sugli altri io credo che un leader un manager un imprenditore deve anche far sue quelle che sono le problematiche per cercare di risolvere perché del resto la seniority ma anche per quello che uno viene pagato e non è che deve trasportare su altri che hanno meno responsabilità e mi riferisco anche alla famiglia praticamente direttamente quindi io senza dire nulla alla mia famiglia ma molte volte avevo pensato dico forse è meglio che faccio la valigia e vado via poi diciamo che sono rimasto quasi 17 anni senza fare la valigia e il resto è storia Palmino parliamo di Italia senza entrare in discorsi politici quindi non creiamo nessuno squilibrio ma da persona che vive l'Italia perché fino ad oggi abbiamo interagito con italiani che stavano all'estero quindi avevano un occhio sull'Italia come osservatore straniero mettiamola così pensi che ci siano dei leader in questo momento che stiano avendo un impatto positivo o possano avere un impatto positivo sui giovani italiani beh diciamo il momento europeo non tanto quell'italiano ma anche mondiale no ci sono ci sono problemi veramente molto grandi da gestire quindi cercare degli esempi oggi è molto difficile perché l'esempio lo possiamo trovare nel momento in cui qualcuno riesce a risolvere qualche cosa è proprio un po' l'esempio che facevo anche prima se tu non riesci a dare in questo caso al paese all'Europa all'Italia al mondo un esempio tra virgolette positivo che tu stai facendo qualcosa di buono e la gente ti misura sui risultati non è che ti misura sulle parole una volta ti può misurare sulle parole oggi diciamo che la cosa bella che io vedo che ci sono tante donne che stanno comunque diciamo entrando in questa scena politica e io quando parlo di scena politica parlo anche di ruoli diciamo istituzionali ma anche di grandi aziende di consigli di amministrazione quindi la donna che arriva diciamo nel nel paese nell'Europa secondo me è già un sintomo di esempio quindi perché comunque le donne sanno fare molte cose e meglio di noi molte volte meglio di noi anche perché loro sono abituate a fare più cose contemporaneamente rispetto a noi noi non ci siamo ancora arrivati a quello poi diciamo c'è questo mondo dei giovani ci sono tanti esempi di giovani intraprendenti giovani leader che probabilmente fino a vent'anni fa questi giovani venivano messi un po' da parte solo perché non avevano le giuste esperienze e ritorniamo ancora qua non è che uno non deve avere esperienza l'esperienza ci deve essere però oggi si arriva molto più facilmente rispetto a prima e si arriva anche molto più velocemente ma perché è il mondo che va più veloce quindi gli esempi che io vedo oggi esempi di persone come dire da seguire come esempio sono quelle persone che veramente dedicano la loro vita e se stessi sostanzialmente per un bene comune e ce n'è qualcuno non voglio fare nomi ma ci sono ci sono persone che oggi si dedicano come dire con la testa con la mente con il corpo a questi tipi di situazioni ne vedo tante anche a livello europeo poi abbiamo tanti mentor in giro per il mondo io quando penso qua un nome si può dire Mario Draghi un italiano che comunque nel mondo è riconosciuto come un grande leader in America in Asia in Europa in Italia dappertutto ecco noi delle volte queste persone le dovremmo utilizzare un po' di più a livello proprio di mentorship per cercare poi di portare su delle persone che possono essere dei successori i famosi mentii quindi dei mentii dei politici che sono grandi leader a cui passare il testimone sostanzialmente Palmiro lasciamoci con un messaggio per i giovani un consiglio che tu vuoi dare alle nuove generazioni che poi saranno i capitani del futuro sostanzialmente beh è quello che do tutti i giorni ai miei figli perché io ho la fortuna di avere tre figli e tutti i giorni gli dico che devono fare sacrifici non si devono lamentare devono cercare praticamente di faticare proprio nel senso della parola che devono studiare oggi si deve studiare molto di più rispetto a prima e si deve anche capire che probabilmente anche se uno all'inizio fa un lavoro umile anche se all'inizio tu non fai il lavoro della tua vita il lavoro del tuo sogno è un'esperienza che tu devi mettere da parte e quindi bisogna essere affamati purtroppo noi genitori oggi abbiamo delle grosse responsabilità nei confronti dei giovani questo è il mio parere personale tanti genitori noi genitori abbiamo più responsabilità dei giovani perché noi cerchiamo sempre di rendere la vita facile ai giovani ai nostri figli ai nostri nipoti alle persone diciamo che vogliamo bene facendogli il compitino noi il compitino non lo dobbiamo fare ma dobbiamo fare che il compitino se lo facciano loro e naturalmente noi dobbiamo sempre guardare con attenzione sorvegliare e semmai anche aiutare però non ci dobbiamo sostituire essere lì ma non sostituire Palmiro io ti ringrazio hai condiviso delle esperienze bellissime che sono di spunto per i nostri ascoltatori grazie ancora grazie a tutti voi per essere stati con noi non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima puntata di Capitani del Futuro grazie a tutti